27enne albanese trovato in possesso di 35 grammi di cocaina purissima e stato arrestato. L'uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della squadra mobile di Arezzo che avevano notato i movimenti già da qualche giorno. Durante i servizi di appostamento gli agenti avevano notato e accertato da alcuni giorni le cessioni di cocaina avvenute tutte nella zona di Via Romana ad Arezzo. Gli ordini arrivavano via telefono e il giovane albanese raggiungeva l'acquirente consegnando una o più dosi di droga. Nel pomeriggio di ieri, dopo l'ennesima cessione, è scattato l'arresto e l'esito della perquisizione domiciliare ha confermato l'attività del pusher. A casa del 27enne sono stati rinvenuti 35 grammi di cocaina pura, 2.000 euro in contanti, una pistola scacciacani priva di tappo rosso e strumenti utilizzati per il confezionamento dello stupefacente come un bilancino di precisione e ritagli di cellofan utilizzati per confezionare le dosi di cocaina. Lo spacciatore è stato arrestato. Grazie. Grazie.